Salve, sapete che qualche giorno fa si è svolto il diciassettesimo trekking urbano nella città di Siena e il tema questa volta era l'ecologia, il rispetto dell'ambiente, il riciclo o lo smaltimento dei rifiuti, dell'immondizia in generale, il decoro della città e l'uso delle risorse. Ovviamente quando si parla di un tema come questo si deve anche analizzare il fatto che possa essere applicato sia in ambiente contadino che in ambiente cittadino e c'è una differenza abissale fra quello che si può fare in campagna nella gestione dei rifiuti dove la densità della popolazione è evidentemente molto più bassa e dove il riutilizzo è praticamente immediato mentre in una città in una comunità molto più densa molto più numerosa e in un perimetro più ridotto le cose sono completamente diverse si necessitano leggi regolamenti diciamo modi di comportarsi che rispettino non solo l'ambiente ma anche gli altri abitanti della stessa comunità. Questo tema è stato analizzato ovviamente passando anche dal tema dell'acqua. Per questo siamo scesi anche alla valle di Follonica per vedere una delle fonti monumentali della città, quella recuperata più di recente. L'acqua doveva essere utilizzata in maniera molto razionale, dovevano esserci delle vasche diverse per attività diverse, per il prelievo dell'acqua potabile, per l'abbeveratoio, per gli animali ovviamente, per il lavatoio ed erano le tre vasche fondamentali che nella maggior parte delle fonti grandi del centro e anche delle zone limitrofe esistevano. Poi c'erano fonti come Fonte Branda che invece aveva una quantità di acqua molto superiore e quindi si poteva permettere anche ulteriori vasche per altre attività come quella dei tintori, quella dei conciai per esempio, oppure per il lavaggio, il guazzatoio, per il lavaggio degli animali di grande stazza visto che lì si procedeva anche con la macellazione degli animali di grandi dimensioni. Quindi lo sfruttamento della risorsa idrica e anche se vogliamo lo sfruttamento dei rifiuti è stato il tema del nostro ultimo trekking. È importante capire quanto l'immondizia sia stata considerata una risorsa fino alla fine dell'Ottocento diventando poi invece solamente il rifiuto durante il ventesimo secolo fino ad oggi che invece cerchiamo di di nuovo tornare a dei buoni comportamenti. Questo è stato il tema del nostro ultimo trekking urbano quindi vi invitiamo a visitare la fonte di Follonica basta entrare in piazzetta Virgilio Grassi e scendere nei giardini della contrada del Leocorno in questo parco pubblico che vi porta a una fonte recuperata di recente e che anche Francesco di Giorgio Martini era stato chiamato a recuperare. Non lo fece, si rifiutò, aveva ben altro molto di meglio da fare comunque è una storia antichissima quella del restauro della fonte di Follonica che deve il suo nome ai Follones cioè ai follatori di lana che qui svolgevano la loro attività.